Improvvisamente a Natale mi sposo, film diretto da Francesco Patierno, racconta come la famiglia di nonno Lorenzo, Diego Abbatantuono, come ogni Natale, sia pronta a riunirsi nel suo hotel per festeggiare insieme le feste. Questa volta, però, la tranquillità delle festività natalizie viene scossa da un altro scioccante annuncio, fatto proprio da Lorenzo. L'uomo si è innamorato ed è intenzionato a sposarsi con la sua nuova fidanzata, che presenterà proprio in occasione del Natale. Tutta la famiglia rimane a bocca aperta, ma la più sconvolta dalla notizia è sua figlia Alberta, Violante Placido.